Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa nuova parte andremo a sfidare Alfredo, o meglio Price, il capopalestra di Mogania, di tipo ghiaccio. Quindi, mi sono lasciato nel box Pikachu e ho preso Syndaquil. La nostra squadra di Yoto è ormai completata. Ho intenzione di lasciare un po' Pikachu nel box e vedere come ce la caviamo solamente con questi Pokémon di Yoto. Ok, quindi andiamo nella palestra di Alfredo, o meglio Price, perché qui a Mogania effettivamente non c'è molto altro da fare. Questo ci dice che se andiamo a Est arriveremo nella grotta congelata. Questo ci dice che l'aria di montagna è molto rilassante. Lui ci dice che in questa città si addestravano i ninja, ma non ne troverà qui nessuno. Quindi, va bene. Mentre in questa casetta c'è lui che ci dice che Price recently found his lost Piloswine. Price, o meglio Alfredo, il capopalestra, ha da poco ritrovato il suo Piloswine che aveva perso. E non l'ha mai visto così felice. Quindi sappiamo che Alfredo ha un Piloswine, quindi un bel Pokémon di tipo ghiaccio. Poi nel Pokémon Market non dovrebbe esserci nulla di che, alla fine infatti è vuoto. Possiamo comprare roba, come al solito, ma niente che ci serva. Quindi, senza ulteriori induci, direi di andare nella palestra di Price o meglio Alfredo. Eccolo qui. The Teacher of Winter's Harshness. Il maestro della... Della filatezza dell'inverno. Più o meno. Ed è infatti ghiacciata questa palestra. Quindi, vi ricordo nel frattempo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, come al solito, di commentare e di iscrivervi al canale. Tutte cose che mi fanno molto piacere. Price usa Pokémon di tipo ghiaccio. Sono deboli contro fuoco, lotta, roccia e acciaio. Sono invece forti contro drago, volante, erba e terra. E sono resistenti solamente ad altro ghiaccio. Quindi, dai, proviamo questo raneatore? Sì, vai, battiamo lui. Lui è pronto. E noi? Ma noi ovviamente siamo sempre pronti a tutto, cara. Il mio rischio è tutto. Ah sì, il mannaggia a lui. Avrei dovuto mandare sindacolo allora. Quanto gli fa Energy Ball? Ah, super efficace, eh? Quindi sei anche lì tipo acqua. Piccolo marpione di un seal. Anche a te allora ti uscirò Energy Ball. Però a te non ti ushutterò, infatti. Brina? Non ci fa molto. Non è Brina, nella traduzione non è Brina di quella mossa. Però non ci fa molto, perfetto. Ecco Fempi che sale di livello. Altro seal, altro giro, altra corsa. Lascerò comunque la nostra bailiff. Con una bella Energy Ball. Ecco fatto. Fempi non si evolverà mai nella vita, mi spiace. E andiamo a battere anche quest'altra allenatrice. Combattiamo per scaldarci un po'. Ma possiamo fare anche altro per scaldarci un po'. Cara Roxanne. Io la butto lì. Ecco Jinx, qui avrei dovuto mandare sin da qui, effettivamente. Vediamo Energy Ball quanto gli fa. Poco. Ah è Spancho, questo ci farà male. Ok, fortunatamente non ci ha congelato. Mentre noi gli abbiamo droppato la difesa speciale. E ci ha permesso di ucciderla con la seconda Energy Ball. This was hot. È stato molto hot quello che abbiamo fatto. Ok, altri allenatori qui. Vai, battiamoli prima di andare da Alfredo. Dewgong. Ok. Noi abbiamo la nostra Bailiff con Energy Ball di nuovo. Fa malissimo a Dewgong Energy Ball. Tantissimo proprio. Magical Leaf, addio. Perfetto. Poi andiamo a battere anche questo vecchietto. Questo bel rischiatutto. Patton. Che ma nel campo sui, no? Ok, no? Qui cambio, ma lo... Sì, da quel. Tanto Swainab non penso che abbia un attacco in grado di shottarmi Syndaquil. Adesso Wind, infatti. Non ci fa nulla. Però ci abbassa la velocità. Infame. Andiamo di lanciafiamme. Attenzione, si potenzia la difesa speciale di parecchio. Forse non lo shottiamo. Allora sì, lo shottiamo comunque. Niente da fare per il povero Swainab. Altro Swainab. Lasciamo Syndaquil. E andiamo di altro lanciafiamme. Anche lui usa Amnesia. Va bene. Ma non gli serve a nulla. Perfetto. Mettiamo davanti Syndaquil ora. No, non Bag. Dobbiamo andare su Pokémon. Mettiamo davanti Syndaquil. Eccoci qui. E andiamo a battere l'ultimo allenatore. Tu. Dove pensi di stare andando? Ma dal capopalestra? Cioè, sono qui dentro alla palestra per fare cosa? Secondo te, Brad? Cosa sono qui a fare? Allora, andiamo di Flamethrower. Flamethrower. Che comunque, probabilmente fa più danno di Aera Race. Anche se non è molto efficace. Contando che è Stub. Contando, insomma. Seal. Lasciamo lui. Acqua ghiaccia. Quindi dovrebbe prendere danno normale. No, niente. È solo acqua, allora. Ah, ha bruciato. Eppur si gode, ragazzi. Eppur si gode con la bruciatura. Andiamo di comete. Ahia, acqua jet. Ok. Mi conviene sostituirlo qua, allora. Ma andiamo... No, è Tottenham. Ma andiamo Tottenham. Tanto Aera Cross lo scetterebbe in un colpo. Brin non ci fa nulla. Lui continua a bruciare. E andiamo a questo punto di Trash. Fa male, eh. Trash fa male. Tempi al 35. Non si evolverà nemmeno dopo questa lotta. Noi continuiamo con Trash. E Cloyster, giustamente, si tira sulla difesa. E veniamo pure confusi. Ecco, a questo punto è meglio cambiare Pokémon di nuovo. Contro Cloyster si manda Heracross. Si manda assolutamente Heracross. Lui usa Tekko. Non è un problema. Andiamo di Brick Break. Super efficace. E gli facciamo parecchio danno. E poi concludiamo con un Troth Chop. Dai, via. Attenzione, non muore. È incredibile. Ha resistito parecchio. Non me lo aspettavo che avesse tutta questa resistenza Cloyster. Ma minimamente proprio. Ok, abbiamo distribuito un altro po' di punti di esperienza in giro. E a questo punto possiamo uscire dalla palestra, curarci Pokémon e prepararci la battaglia contro il capo palestra Alfredo. Dite che dopo averlo battuto ci darà un po' di fettuccine. No? Niente? Peccato. Allora. Andiamo a metterci davanti. Syndaquil. Lasciamo Syndaquil. Non è che sia una lotta in doppio, vero? Non credo. Sarà un 2v2. Salve Alfredo. A questo punto devi salvare. Perché se è un 2v2, c'è la possibilità che noi perdiamo. Bisogna vedere chi manda in realtà. Sappiamo che ha un Piloswine, ma non sappiamo che è il suo altro Pokémon. O se ne ha 3 magari. Hello there young one. Ciao giovanotto. Il mio nome è Price, o meglio Alfredo. Ho ritrovato ieri recente il mio Piloswine che era stato perso da tempo. Mi ha aiutato a capire qual è l'importanza dei legami e della fiducia con il tuo Pokémon. Vediamo se anche tu ce li hai quelli. Allora. Piloswine quasi quasi lo farei combattere Syndaquil con un lanciafiamme. E a questo punto mi tengo Heracross. Facciamo... No aspetta un attimo. Ci usa Pokémon, sì. Facciamo che mandiamo in campo Heracross e poi Syndaquil. Perché penso che il suo Piloswine lo mandi per ultimo lui. Quindi prima mandiamo in campo Heracross. Vediamo chi manda lui per primo. Dugong. Ok, va bene. Noi con Breccia dovremmo essere super efficaci contro di lui. Minchia, l'abbiamo trattato. Altro che super efficace. Sì, cambia un po' come nominiamo Syndaquil. Tra l'altro il condivide esperienza che non si attiva perché nella nostra squadra non è attivamente presente Fempy. Avete visto? E vediamo se riusciamo a tirare un lanciafiamme. Siamo più veloci. Buono. Attenzione, bruciato. Buono. Blizzard non ci farà nulla. E la bruciatura lo colpisce. E a questo punto Heracross salto. Infallibile. E addio Piloswine. Livello 40 per il nostro Syndaquil. Abbiamo sconfitto Alfredo. Beh, non me lo aspettavo. Ma come non te lo aspettavi? Ma scusami. Syndaquil si meriterebbe di evolversi, ma non si evolve. Anche se mi avete scritto che durante la Lega di Sinn non si evolve Syndaquil. Quindi tecnicamente magari avremmo potuto farlo evolvere in qui lava. Però tecnicamente, di nuovo, Aioto, Syndaquil non si evolve mai. Quindi ho preferito lasciarlo così. Si è guadagnata la medaglia glaciale. Ghiacciolo. Ghiacciaio. Grazie. E ecco anche questa MT. Hail che è? Hail dovrebbe essere grandi, ne? Si. Ok, abbiamo anche battuto Alfredo. Cos'è che ci dice ancora? Ok, il legame che abbiamo noi con i nostri Pokémon è incredibile. Non perderlo mai di vista. Ok, non lo perderemo mai di vista, caro Alfredo. Quindi, tecnicamente per questa Mogania abbiamo finito una città molto piccola, ma caratteristica, direbbe qualcuno. E non c'è effettivamente nient'altro da fare qui. Possiamo proseguire verso il percorso 44, con questo allenatore che potremmo sfidare in teoria. Sai che Oddish può avversi in due differenti forme? Sì, Vileplume e Bellosom. Dimmi che hai il Vileplume e Bellosom e noi abbiamo Sinta qui davanti. E si gode, eppure si gode. No, ho sbagliato. Cos'è Terrain? Oddio. Ha messo campo erboso? Ha messo campo erboso? Sbaglio. Ma queste erano mosse che non c'erano in seconda generazione, non sono sicuro. Altro Oddish. Ma scusami, ma mi parli di evoluzioni di Oddish e non le hai? Ma sei un poser, sei un pirla, qualsiasi. Guarda, ha tre Oddish. Che poi ne hai tre, cosa ti serviranno a fare tre? Se sono due le evoluzioni. E niente, questo tipo ci ha scammate, ragazzi. È vero, sì sì, è vero che ci ha scammate. Lo ammetti almeno. Battiamo anche quest'altro allenatore. I Pokémon di tipo Fuoco sono i migliori Pokémon. E noi abbiamo davanti Sindacul, quindi probabilmente lo sostituiremo. Flireon, carino Flireon, bello. Come tutte le evoluzioni di Vitran e Sylveon che non mi piace. Allora. Flamethrower, dovrebbe reggere abbastanza, sì. E non è stato scottato, buono. Ruotafuoco. Surf. Ah però, non gli facciamo molto danno, eh. Anzi, ce ne fa molto di più lui. Stupido Flareon. Mandiamo Fempy. Attenzione. Entra in campo Fempy. Teckle dovrebbe reggerlo, abbastanza, sì. E si va di terremoto. Flamethrower dovrebbe reggerlo. Non l'ha detto, no. Giustamente non è resistente a fuoco. Allora manderemo Noctowl. Spero che Noctowl sia un po' più veloce. Ne attacchi per primo. Ok, brava, brava. Buono, buono, buono. Sindacul a 41. Noctowl a 43. Moonblast. Attenzione. Tipo Folletto. 95 di potenza base. E potrebbe abbassare l'attacco speciale del bersaglio. Alla faccia potentissima. Quasi quasi al posto. Eh, ma Proar ha anche la stab, quindi è pure più forte. Perché essendo stab è come se togliesse in realtà 135. Vediamo un po'. No, aspetta. Non ho metterà il 50%. In prima generazione ho metterà il 50%. Non so se poi non ho cambiato con la stab. La psichica glielo lascio perché è fortissimo. Quasi quasi li tolgo ipnosi. Tanto il leggendario li abbiamo catturati tutti in questa generazione. Mancherebbe solo Celebi. E non so se lo catturiamo effettivamente. In caso Celebi lo possiamo paralizzare. Dai, li tolgo ipnosi. Vai, Moonblast. Magcargo. Lasciamo Noctowl a questo punto. E proviamo la nuova Moonblast. Ok, non era molto efficace, mannaggia me. No, me l'ha bruciato. Vabbè, userò l'attacco speciale allora. Fanculo. A Proar. Perché è così poco efficace? Ma scusami. Ma Cargo è tipo fuoco e basta, no? Ah no, fuoco roccia. È vero. Fuoco roccia. Vabbè, ha ragione lui allora, sono stato stupido io. Sei più veloce di Macargo, Totolile. Vediamo. Sei più veloce o no? Sì, sei più veloce. Bravo. Ok. 42 per Totolile. Sei on fire. Sì, come i miei Pokémon che si vorranno evolvere. Torniamo velocissimamente al centro Pokémon. Ecco, la Ghicocca lì faccio meno di prenderla perché come vi ho già detto anche in altri episodi, le Ghicocche sono praticamente inutile. A un certo punto arriveremo sicuramente in un posto in cui potremo comprare le Pokéball speciali, quante ne vogliamo, come ne vogliamo. E non dovremmo essere legati a Franz che ci fa le Pokéball speciali con le Ghicocche. Ecco. Altra allenatrice. Dimmi che è un Pokémon tipo erba. Time to dance. Vediamo cos'hai tu, eh. Brittany. Ok, tipo i normali, va bene. Jigglybuff. Andiamo di Flamethrower. Mi fa abbastanza male. Sweet Kiss. Ci confonde. Ok. Andiamo di Comete. Bravo, bravo, Syndaquil. Ok. Un altro Jigglybuff. Beh, ma andiamo Fempio a questo punto. Deve pure iniziare a combattere un po' da solo, no? E l'altro non è a livello 35, quindi è un livello più che possono per poterlo fare. Andiamo di Heartquake. Niente male. Altro Heartquake. Ecco fatto. Sì dai, Fempio può iniziare a combattere da solo un po'. Quando ne ha l'occasione. Altra allenatrice. Questa mi sembra che ha un Pokémon di tipo Spettro. Per per tu via Banes. Mi sembra una delle... Infatti. Una Channeler. Ah, però ha Macro, non tipo Spettro. Ok, un bel Flamethrower anche su Macro. Ma finta fa male, eh. Anzi, Fempio attacco potrebbe essere Sbigo attacco. E noi andiamo di Comete. Ah, lui ci usa Comete alla sua volta. Andiamo, Macro. Perfetto. A questo punto sostituiamo davanti... No, non è un item. Sostituiamo e mettiamo Fempi. E a questo punto gli diamo anche un altro strumento. Gli diamo il Fortu Nuovo. Perché ora inizierà a prendere un bel po' di esperienza il nostro Fempi. Oh, una Fanta allenatrice? Attenzione, Fanta allenatrice. Attenzione. Minalki manda Merip. Ah beh, che culo, ragazzi. Cioè, meglio di così non potevo andare. Heartquake. Signal Bim mi fa male. Alla faccia, sì. Dai, però, è rimasto con un HP. Ma che merda. Mandiamo... Bellif. Spero non faccia Signal Bim di nuovo, perché se non sbaglio è Coleottero, Signal Bim. È super efficace, infatti. Però fa molto meno danno lo stesso. Andiamo di Magical Leaf. Ok, Fempi è salito di livello. Bellosom. Sin da qui sarà più o meno veloce di Bellosom. Per me è meno veloce. Quindi mi sa che abbiamo appena mandato a morte certa, vero? Vediamo. No, è più veloce, attenzione. E invece... No, non lo uccide. Aia. E niente, è andato. È andato Sin da qui. Peccato. Peccato davvero. Chi mandiamo? Mandiamo Bellif, che deve essere più di livello, ma... Tanto qua, comunque se si attacco, la ammazziamo lei. Mandiamo di Body Slam. E via. Ok, 42 per Bellif. Ottimo. È abbastanza impressionata. No, Fempi, non ti puoi evolvere. Mi spiace. Nemmeno tu, Benif. Mi spiace davvero tanto. Vediamo cosa c'è qui davanti. Ah, un altro allenatore alla faccia. No, aspetta, allora. Vado a curarmi Pokémon. Faccio meno di tagliare perché tanto è letteralmente qui. A due passi. Quindi... C'è letteralmente il tempo che dico che vado a curarmi Pokémon. E sono qui al centro Pokémon, appunto. Quindi non c'è bisogno di tagliare, tranquilli. Ecco fatto. E vediamo quanti altri allenatori ci sono in questo percorso, perché... Sembra essere impegnativo, eh? Sembra essere impegnativo. Tra l'altro abbiamo appena depositato Pikachu, quindi non abbiamo più nessuno. A coprirci le spalle dei Pokémon di canto. Qui abbiamo un altro allenatore e uno strumento. Una Ultra Ball. Salve. Ah, questo è in una winning streak, è in una serie di vittorie, questo tipo. Con il suo Poli Brat. Alla faccia, effettivamente. E mica male, eh? Mica male un Poli Brat al 39. L'unica cosa che posso fare è mandare di contro Noctowl. Vai. Cosa fa? Double Slap. Va bene, non ci fa molto danno, in teoria. Ok. Ok, a questo punto usiamo... Psichico. Psichico dovrebbe fargli molto male. Nemmeno così tanto in realtà. Ah, li abbiamo diminuito la difesa speciale, buono. Uh, cacchio. Mi ha quasi shottato Noctowl, sto tipo. Beh, ha avuto un turno di vantaggio, per carità. Last Resort, cos'è che fa? Allora, this move can be used only after the... Ah, ok, ok. Quando hai usato tutte le altre mosse, no? Tutto completamente inutile. Ok, no, non ti puoi evolvere, Fempy. Ho detto di... No. Allora, vediamo cosa c'è qui sopra. Altre allenatori? Se una channeler... Vediamo cosa vuole lei, eh. Lei si è allenata per dieci anni, ci ha detto. Medelaine. Con Slowbro. Ok. Allenata per dieci anni con Slowbro. Non posso ovviamente lasciare Fempy. In qualsiasi attacco di tipo acqua me lo shotterebbe. Tipo Psico. Prova a mandare Heracross. Prova a mandare Heracross, che dovrebbe fargli parecchio male, se non ce l'ho shotta. Confusione. Aia. Che botta, però. Allora, andiamo di Pin Missile. Che ha pure Stub. Eh, mica, se gli fa male. Se colpisce cinque volte lo ammazza. Anche quattro, bastano. No, peccato, solo tre. Peccato. Andiamo di Trotshop, allora. Super efficace anche questo. Niente male, eh. Niente male, questi Pokémon. Qui davanti, invece, cosa abbiamo? Ah, penso che sia... Il ricongiungimento del percorso... Della parte bassa del percorso, no? Gloom qui non ci interessa. Fuga. Questa è un'allenatrice, immagino. No, prima hai davanti un Pokémon. Oh, ma Cargo? Figo. Sarebbe interessante provare a catturarlo. Che possiamo mettere lì davanti? Totorail. Andiamo a sito, Totorail. Perché mi sa che con Terremoto lo shottiamo. Con Surf lo shottiamo. Ma vai a cagare. Ti ho la tua bruciatura. Mentre, per esempio, con Shadow Claw potremmo fargli normali danno. Anche poco, a dire la verità. Anche troppo poco. Crunch dovrebbe essere poco efficace, vero? No, normale. Sì, però non fa danno, Totorail. Bruciato giustamente non fa alcun tipo di danno. Oh, diminuisce un po' la difesa, va? Sto infame. Però mi sa che muori ora. No, un ultimo turno riesce a farlo. Ok, va bene. Totorail è stato sacrificato per la causa del Livindex. Mandiamo Syndaquil. Mandiamo Syndapid e usiamoli contro delle Comete. Buono. Un danno lieve. Che ce lo porterà in range di cattura. Un'altra Comete. Aia, questo fa malissimo. Vai, un'altra Comete e poi puoi anche morire, Syndaquil. Addio, Synda. Addio. Mandiamo a questo punto Fempy. Dai, Fempy, falli brutto. Falli brutto che così si impaurisce ed entra nella nostra Ultra Ball. Sì, Ultra Ball. Usiamo una Ultra Ball. Stavo ragionando se usare magari una Mega Ball o una Poké Ball. Però alla fine è un Macargo. Ok, preso. Buono. Ottima cosa. Un po' di punti esperienza per il nostro Fempy. No, non gli diamo un soprannome. Ora però tutti i miei Pokémon sono stati disintegrati da questo Macargo. Quindi non posso combattere un'allenatrice. Volo qui a Mogani Town. Mi curo e torno qui ovviamente. Anche in questo caso senza tagliare direi perché ci metto due secondi letteralmente. Ecco fatto. Così almeno capiamo anche meglio la geografia di questo posto. In questo percorso 44. Perché noi qui sotto abbiamo fatto tutto. Poi qui tecnicamente inizia l'erba alta, sì. E andando qui dentro c'è la ragazzina lì. Qui abbiamo un Elisir. Perfetto. E possiamo a questo punto sfidare la ragazza. Un Oddish. Non ci interessa. Abbiamo già tutta la sua linea evolutiva completa. Mentre tu invece cos'hai? Se i Pokémon selvatici mi fanno la decenza di scomparire per un secondo. Ecco fatto. Nothing beats hard work. Niente sconfigge il duro lavoro. Se ne sei convinta, temmi, buon per te. Cacchio bello Politoad. Bello. Andiamo Baleef. E con questo Fempi dovrebbe salire a livello 38. Buttergun non ci fa nulla, giustamente. E noi usiamo invece un Energy Ball. Swagger. Ah, dai, questo è bullo. Infame. No. Mi ha confuso. Ah, bello. Siamo usciti subito dalla confusione. Fortissima Baleef. Ok, continuo pure ad usarmi il Pistola Acqua. Politeod è fortissimo, eh. Come Pokémon. Fortissimo. Jumpluff. Mandiamo Sindaquil. Un bel lanciafiamme. E addio Jumpluff o Jumpluff. Chiamatelo come ho detto Jumpluff. Bellino anche Jumpluff comunque, eh. Mega Drain, attenzione. Vediamo quanto rifacciamo di lanciafiamme. Non va giù comunque, peccato. Beh, se uso solo Mega Drain non avrà alcuna speranza contro Sindaquil. Vai. Bella lì. Ed ora Sanflora. Contro Sanflora manderò... Lascerò Sindaquil. Altro lanciafiamme. Oh, Sduppiatore, davvero. Andiamo di Lavabloom. Alla faccia dei danni, eh. Bello Somm. Sì, lasciamo Sindaquil. E andiamo di Flamethrower di nuovo. Oh, finalmente un bel one-shot. Che soddisfazione, eh. Ole. Tempy continua a volersi evolvere, ma mi spiace per lui. Anche per Sindaquil mi spiace molto. E a questo punto possiamo continuare da questa parte. Con altri Papamo Selvatici. Ah, un bel Vileplume. Attenzione, avremmo potuto catturarlo direttamente qui al posto di... Farcelo noi con la Pietrofoglia. Di sotto c'è l'altro allenatore che non abbiamo ancora affrontato. Parasect. Anche lui ce l'abbiamo già. Fuga. Dai, ero quasi fuori dall'erba. Oh, Spinarak. Bello, a livello 30. Però anche lui ce l'abbiamo già. Non è un problema. Via. Ok, siamo arrivati alla Grotta Gelata a questo punto. All'ingresso della Grotta Gelata. Tu sei un guru, quindi un pescatore. Quindi avrai Pokémon di tipo acqua. Quindi ti metterò un antipailiff. Semplice. Vediamo un po', eh. Vediamo un po' chi ci manda lui. Premo Raiden, infatti. Infatti. Andiamo di Energy Ball. Lock on. Attenzione, prendi la mira Remoraid per poi morire meglio. Bravo Remoraid, ha fatto molto bene. Remoraid di nuovo. Va bene. Idropompa, la berreggiamo, immagino. Sì, assolutamente. E via anche Remoraid. Brr, sì sì, brr proprio. Altro pescatore. Minchia, quanti allenatori c'erano in questo percorso, ragazzi. Quanti cacchio di allenatori. Ne manca solo uno dopo questo, eh. Solamente uno. Energy Ball su Goldin e addio. Bella lì, 43. Seeking, lasciamo Bailiff. Un'altra Energy Ball che non penso lo shotterà in realtà. Ma invece, attenzione, brutto colpo e lo shotta. Brava Bailiff. Brava. Altro Goldin. Vai. That's better, sì. Non può evolverti Bailiff, mi spiace. Allora, un Max Repel. Ok. Dove ho un occhiato un attimo alla mia squadra come messa. Allora, direi che possiamo provare ad affrontare questo fanta allenatore. Ecco il Deuce a warm up. Potrebbe servirmi un riscaldamento, ci dice. Con molta supponenza, allen. Che ma nel campo c'è Arminion. Ecco, noi abbiamo messo davanti proprio chi non doveva mettere davanti, mannaggia me. Prova a mettere Fempie. Vedere se regge. Dubito che Regas attira un lanciafiamme. Fire Fang. Dai, però, mi ha bruciato. Che palle. E con la bruciatura non lo tirerà mai giù. Anzi, muore ora, infatti. Niente, Fempie è proprio una sega in questo momento. Fempie, delusione totale. Allora, andiamo di surf. Scary Phase. Ci diminuisce la velocità anche se siamo già più lenti. Quindi, non è un problema. Attenzione, lo sostituisce. Manda Magnemite. Che bella mossa. Bella mossa davvero. Io allora sai cosa faccio. Vai Air Force. E se usiamo pure Discharge. Ma, però, bisogna essere stronzi, eh. Cioè, due status su due ha preso. Va bene. Oh, dai, muori. Grazie. E a questo punto rimandiamo Totodile. Vai, usa ancora Visotrucce, mi raccomando. Perché potrei magari aver aumentato la mia velocità nel frattempo, eh. Usa Visotrucce. No, Fire Fang. Ci ha provato e ha missato, giustamente. Un po' di karma, ragazzi. Un po' di karma. Ole. Abbiamo battuto anche lui. E, facendo ciò, abbiamo battuto tutti gli allenatori del percorso, cos'è questo? 44. Quindi niente male, ragazzi. Cioè. Una bella parte questa, eh. Bella lunghetta. Palestra di Mogania. Città di Mogania. Anche se non c'era letteralmente niente da vedere. E tutto il percorso 44. Ora, torniamo quindi. Tra l'altro, il percorso 44 abbiamo scelto noi di farlo in questo modo. Perché volendo, si può prendere o la via superiore o la via inferiore. E saltare almeno 4, se non 5, allenatori di questo percorso. Ma, che senso avrebbe, altrimenti? Giocare a Pokémon se si saltano a sello gli allenatori. Detto ciò, quindi, vi ringrazio per aver seguito il video. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Di commentare e di iscrivervi al canale. Per non perdervi i prossimi caricamenti. Nel prossimo andremo a... Nella caverna gelata. In questa grotta gelata. Quindi non perdetevelo assolutamente. Incontreremo un sacco di Pokémon di tipo ghiaccio. E arriveremo, forse, all'ultima città della regione di Yoto. O meglio, la città con l'ultima palestra della regione di Yoto. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.